Oggi con il Movimento 5 Stelle siamo tra la gente, tra le persone come è nostra abitudine e come non è abitudine abbiamo visto delle altre forze politiche che da un po' di tempo si sono dimenticate dell'importanza dello stare tra la gente, con la gente. Oggi siamo qui al mercato comunale di Avellino dove parliamo alle persone di reddito di cittadinanza quota 100, due misure che non sono assistenzialiste, due misure che danno nuova dignità alle persone e che ci permettono di ricordare a tutti che nessuno deve rimanere indietro.